Quando decise che avrebbe dedicato la sua vita alla caccia dei criminali nazisti? Pochi giorni dopo la mia liberazione. Fui liberato il 5 maggio del 1945 dal mio ultimo lager, Mauthausen, dall'esercito americano. Ero uno scheletro, pesavo 44 kg. Sapevo che nessuno dei miei era più in vita. Molto più tardi, seppi che solo mia moglie era sopravvissuta. Allora mi dissi, non posso più far niente per i vivi, devo vivere per quelli che non ci sono più. Non lontano da quella piazza, dove ancora risuonano gli Osanna e Hitler, al numero 6 di Salstorgasse, al secondo piano di un edificio anonimo piccolo borghese dalla facciata grigiastra come tante case di Vienna, c'è l'ufficio della memoria, il centro di documentazione ebraica, diretto da sempre da Simon Wiesenthal. Ha mai avuto paura in questi 40 anni di essere fatto fuori? Naturalmente ci sono state persone che volevano eliminarmi. Abbiamo otto o nove fascicoli pieni di lettere minatorie. I nostri numeri telefonici non sono conosciuti pubblicamente e naturalmente ci sono stati degli attentati. Io personalmente ho poliziotti davanti alla porta dell'ufficio e davanti a casa. Due anni fa, in giugno, ci fu una bomba a casa mia. Erano convinti, penso, che eliminandoci con un attentato potevano compiere un atto eroico. Ma mi sono detto, sono scampato a Hitler, sono scampato ad Eichmann e due sono le cose che mi aiutano nel mio lavoro. Non provo odio e non ho paura. Simon Wiesenthal non ha paura. Il centro di documentazione ebraica è un nome altisonante e ognuno immagina grandi uffici, archivi, telex, terminali, casseforte elettroniche. No, sono solo tre stanze. E ci sono tre collaboratrici silenziose, precise, straordinariamente efficienti, che sanno tutto. Le ha create Simon Wiesenthal. Ma senza di loro oggi sarebbe probabilmente perduto anche se l'archivio, egli dice, è la sua memoria. E non c'è nessun altro. La forza del centro sta altrove. Nel coraggio di Wiesenthal, nella sua tenacia, nella sua capacità di intuizione e di intervento e in una rete invisibile di amici volontari, colpiti dalla stessa sventura. Gente come lui che ha fatto un giuramento a chi non c'è più.